Dottore, abbiamo parlato spesso dell'abuso di antibiotici tra gli effetti negativi e anche la recrudescenza di alcune malattie, che sembra un po' un controsenso, ma è così. Ci sono delle malattie che capitano durante tutto l'anno ciclicamente senza soluzione di continuità, proprio a causa dell'abuso degli antibiotici, è giusto? Sì, si verifica questo evento, in quanto, come abbiamo più volte detto, i germi possono diventare resistenti agli antibiotici. Il classico esempio è la tonsillite della streptococco, che ormai, almeno dalle nostre parti, è diventata una malattia per alcuni soggetti veramente quasi costante. Abbiamo soggetti che prendono 5-6 tonsillite della streptococco o spesso anche la scarrattina durante l'anno. E questo è un classico esempio di resistenza all'antibiotico, in quanto un uso improprio ed incorretto dell'antibiotico può determinare l'antibiotico resistenza, cioè il batterio si abita con l'antibiotico e non risponde più alla terapia e questo fa sì che la malattia si presenti due volte. Nel caso dello streptococco, l'antibiotico di prima scelta, secondo le linee guida internazionali, è la moxicillina. Non andrebbero mai usati, tranne che in rari casi di reale allergia all'antibiotico, i macrolidi. I macrolidi nel trattamento della tonsillite della streptococco possono determinare antibiotico resistenza. La terapia antibiotica va sempre prodotta per i giorni prescritti dal medico. Fare una terapia antibiotica per i due o tre giorni in cui c'è la febbre determina un danno gravissimo all'ecosistema, in quanto nei primi giorni muoiono i germi sensibili all'antibiotico e quelli resistenti restano vivi e si moltiplicano propagando la loro antibiotico resistenza. E dunque la durata è sempre quella del medico. L'antibiotico corretto, quello che ha la maggior attività, è un uso corretto dell'antibiotico. Ricordiamo sempre che noi utilizziamo un antibiotico circa 3-4 volte la media europea, specialmente nell'età infantile. L'antibiotico va usato esclusivamente nelle malattie batteriche, che rappresentano circa il 40% dell'affezione cui va incontro il bambino durante l'anno. Cioè, 6 volte su 10 le malattie sono virali e non necessitano di alcuna terapia, tranne se fosse necessario per ridurre i sintomi l'uso della tachipirina. Ma usare l'antibiotico in una malattia virale fa soltanto danno sia all'ecosistema, generando fenomeni di antibiotico resistenza, sia deprimendo quelle che sono le nostre difese attraverso l'alterazione del microbiota. Noi abbiamo un complesso apparato che si chiama microbiota, in cui vari germi competono e aiutano il nostro organismo a funzionare, che ogni volta che usiamo l'antibiotico viene alterato. È come se buttassimo una bomba atomica nel nostro corpo e altera questo microbiota. Ci vogliono anni per far tornare del microbiota così come era in origine prima dell'antibiotico. E dunque un invito sempre e costante a un uso corretto dell'antibiotico. L'antibiotico è solo quando è utile, se si usa quello adatto e nei giorni previsti e non meno.